Provato per questa lunga maratona, ma soddisfatto del risultato? Molto soddisfatto, si vedeva già in campagna elettorale che si era riacceso questo feeling con la città, quindi sono molto grato ai candidati, sono grato agli elettori e speriamo in questo ballottaggio di confermare questo trend, di rinsaldare le file e di stabilire un contatto ancora più preciso con la città, parlando dei nostri programmi, parlando di quello che vogliamo fare, parlando di quello che è giusto, che si metta in campo per rilanciare la nostra città. Continuo ad avere una grande serenità che mi viene dalla consapevolezza che io mi sono spesso con tutte le mie forze, non so se ho fatto tutto quello che si poteva fare, ma io ho dato tutto quello che potevo dare, quindi non ho rimpianti da questo punto di vista, credo di aver fatto un buon lavoro, di aver mantenuto fede agli impegni presi col mio elettorato. Oggi vivevamo in una città, un'amministrazione con un bilancio in regola, quasi virtuoso, le opere che abbiamo realizzato sono sotto gli occhi di tutti, quindi credo di aver dato tanto alla mia città, vado avanti a testa alta per affrontare questo ballottaggio. Grazie per la visione!